Arezzo parla al mondo con il linguaggio della cultura, un sogno che sia vero. Davvero. Non nasconde la sua emozione il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli nell'inaugurare la ultima mostra, la più importante, dedicata a Giorgio Vasari che ha riportato anche la chimera ad Arezzo. Il conto alla rovescia è terminato, la mostra, il teatro delle virtù dedicata a Giorgio Vasari nell'anno in cui ricorrono i 450 anni. Dalla sua morte è realtà. Che Arezzo venga definitivamente riconosciuta come città d'arte. Per troppo tempo noi siamo stati identificati soltanto come una città di grandi tradizioni di manifattura ora fa e di manifattura in generale ma non come città d'arte. Oggi possiamo dimostrare di essere. Una mostra unica con prestiti che arrivano dai più importanti musei del mondo. Quello che fa battere il cuore agli aretini arriva dal museo archeologico di Firenze, la chimera. Bronzo etrusco rinvenuto nel 1553 ad Arezzo fuori porta a San Laurentino, venne poi reclamata dal granduca Cosimo I dei Medici e Vasari a narrare la storia del suo ritrovamento. Questa scultura incredibile di bellezza immediata, di grandezza anche dal punto di vista proprio fisico e di rarità dovrà essere il simbolo di questa nuova era che era l'era di Cosimo I. Quindi ovviamente all'epoca Cosimo era il duca, poi diventerà il granduca di tutta la Toscana. La Toscana si identificava con l'Etruria e quindi l'associazione duca-bellerofonte-chimera sconfitta dal duca. E la Toscana come luogo del regno del duca è stata immediata, quindi Vasari ha avuto un colpo di genio, dei tanti colpi di genio che ha avuto, uno di questi è stato la chimera. La mostra ospitata nelle due sedi espositive della Galleria d'Arte Moderna di Arezzo, Piazza San Francesco e Sant'Ignazio è davvero un'occasione unica per tutti per conoscere la straordinarietà dell'aretino Giorgio Vasari. Le opere che si vedono in questa mostra riescono a completare il profilo di Giorgio Vasari facendo anche capire, questo è un aspetto fondamentale, il suo rapporto strettissimo con gli intellettuali e i letterati del suo tempo. La presenza in mostra di pregiatissimi volumi che provengono ad esempio dalla Biblioteca Vaticana ci dice quanto Vasari studiasse e avesse rapporti con i letterati che ad esempio gli suggerivano anche i soggetti per le opere. Quindi interessante questo, interessante la messa a fuoco di un grande protagonista del Cinquecento che con il suo massimo committente, cioè Cosimo I, ebbe un rapporto straordinario non soltanto diciamo così d'ufficio ma anche proprio familiare e molto cordiale. Quello che le opere comunicano una per una è la straordinaria qualità, noi troppo spesso pensiamo al Vasari come un pittore ripetitivo ma invece ogni volta rinnova la sua inventiva, ogni volta mette in campo un disegno stupendo, impeccabile, lo vediamo anche dai fogli qui esposti. Certamente il dialogo che si crea fra le opere, i documenti, i disegni e i libri ha luogo qui e soltanto qui. C'è tempo fino al 2 febbraio per poter godere di queste meraviglie, il sindaco però ha già pronta la richiesta di una proroga. Ora vedremo quello che succede, vediamo anche il numero di presenze, ci valuteremo il tutto e quando sarà il momento, se sarà il caso, proveremo a chiedere un'estensione di qualche settimana. Vediamo, è prematuro dirlo però noi sappiamo che il 2 febbraio chiude. Vediamo come vanno le cose. Grazie.